In collaborazione con Glam Vision e Caffacli. Nerve Caprioli, altri 5 investimenti nella notte lungo le strade trentine. L'allarme delle associazioni ambientaliste e le richieste alla provincia di azione concrete. Mercalli a Ildolomiti. Maggio del 2022, uno dei più caldi degli ultimi 200 anni. L'estate ormai dura quasi 6 mesi. Le ultime piogge violente ma puntiformi. Il problema siccità rimane. Violenza ostetrica, parlano le professioniste. Baccari, bisogna essere alleate delle donne e rivedere i modelli organizzativi che non permettono l'assistenza una a una. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero Glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista. E poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su GlamVision.it